Dopo tanti sacrifici per mettersi a norma con le disposizioni antivirus, le palestre sono costrette ad una nuova chiusura, che si protrarrà almeno fino al 24 novembre. Un danno ulteriore per la categoria, già duramente colpita dal precedente lockdown. Ci avevano dato una settimana, forse non chiudiamo, con i nuovi protocolli andremo avanti, quindi ci eravamo attrezzati ancora di più, le persone li stavano rispettando ancora di più, quindi da sole, senza dirgli niente, si erano responsabilizzate molto, c'era stato anche un calo di affluenza, quindi era molto più semplice gestire tutto e veniva proprio venino da sole, ognuno lavorava in completa autonomia pulendosi i macchinari alla fine. Proprio erano entrati benissimo nel ruolo, quindi è cascata come un fulmine a ciel sereno questa decisione, non ce l'aspettavamo. Dopo i tre mesi precedenti della scorsa primavera, dello scorso lockdown, molti di noi avevano fatto recuperare il tempo perso alle persone, sperando in settembre e ottobre, quindi col nuovo stop, insomma, diciamo che metterà sicuramente in crisi molti di noi. Onestamente ce l'aspettavamo, perché dopo l'ultimo discorso di due domeniche fa era nell'aria, quindi eravamo pronti a questa ennesima chiusura. Non abbiamo avuto casi di positività di niente. Al primo lockdown avevamo già sistemato tutta la struttura con vari distanziamenti, igienizzanti, carta, non facevamo portare niente dietro alle persone, nulla sulle panche o agli attaccapanni. Quindi diciamo le prime disposizioni erano le stesse di ora e già venivano rispettate da vari mesi, quindi non si capisce appunto come mai nell'ultimo mese, nell'ultimi venti giorni è stata poi, insomma, c'è stato questo accanimento verso queste strutture. Cosa può portare questa ulteriore chiusura? Difficoltà, difficoltà perché già la prima ne ha portata molta e con pochissimi aiuti e si fa dura, onestamente non è facile anche perché le persone del territorio, comunque io parlo per Pistoia, quando si sentono parlare hanno sempre più un aspetto, un approccio distante alla palestra e questo non va bene.